Azione! Per l'epoca era una donna anche abbastanza coraggiosa, molte presenze femminili, Irene, Greta Ferro, lei è la protagonista di questa serie e poi ci sono anche i suoi colleghi, insomma c'è un mondo femminile molto interessante e anche un mondo maschile con il quale io magari ogni tanto mi scontro, c'è un redattore in campo di un'altra cosa che è il mio nemico cerrimo perché comunque non condividi la mia vendita diciamo editoriale su certe cose. E' anche interessante comunque vedere come si facevano i giornali negli anni 70. E' una storia invece che racconta un periodo della nostra vita italiana in cui c'erano dei grandi artisti che erano questi grandi stilisti che sono diciamo poi quelli che hanno fatto la moda italiana e sono cose che probabilmente non tutti sanno quanta forza e quanto talento c'era dietro queste persone. E per me è un grossissimo omaggio questo momento storico della nostra vita.